buongiorno a tutti e benvenuti all'undicesimo episodio vi dico subito se per caso come nell'ultimo episodio mi dovessi ancora perdere quei pezzi li taglio e poi andremo subito nel pezzo dove dove ho trovato perché l'ultima volta dovevamo seguire le tracce del pinguino il prossimo baglio mi ero perso avevo trovato degli upgrade per le tutte robe del genere soltanto che dopo perso le tracce del pinguino poi finito il decimo episodio la la proprio il la cosa che mi hanno la cosa che mi cambia totalmente la vita e ho capito come funziona ma allora e adesso sono qua davanti all'ascensore a tome lasciamo perdere chi ama se sono davanti all'ascensore vedete quel cosino rosso con la freccia ecco sono io vedete quella frezzettina rossa perfetto quella frezzettina rossa e credo dove mi porta l'ascensore ecco seguiamo la freccia seguiamo attenzione eccoci qua visto lì dove bisogna andare e quindi a rigor di logica clac devo andare nell'ascensore ecco grazie mille dopo che ho fatto tutto sto cosa qua perfetto quindi analisi in le tazze di sangue città sul tazzerino mostrano codice 1241 1241 e mo ma aperto perché si aprono sempre le porte basta fermato di forte o finalmente finalmente abbiamo capito come si usa la cazzo di mappa del cavolo vi dico subito che poi uscirà farò uscire anche un video dove vi spiegherò delle cose il recinto vecchio allusinito può essere divelto con una leva adeguata con una leva adeguata cacchio sono quelle luci lì eh perché ah oh di me sangue del pinguino vedete che quello è il sangue che ha perso mia mia c'è un vecchio accesso quindi non posso andare qua pesante porte di sicuretta di sicuretta sbarrazze sbarrazze quindi ecco stavo dicendo ah sì che se quello lì è tutto il sangue che ha perso il pinguino credo che una persona normale sarebbe già morta che che non ti dico quindi siamo venuti qua per un bel niente ah ah ok cioè siamo venuti qua dopo tutta sta tiriterà e non ci possiamo andare avanti non possiamo andare avanti ma son contentissimo guarda e mo vai al faro per arrivare al pinguino eh ok ma posso cambiare zona si voglio andare lì infatti o devo uscire oh madonna allora no no dio no beh non un pugno aspetta come fa ma no ma ok devo uscire minimo no 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 come si fa la mappa ah lo zoom così si allora ci vediamo quando sono uscito dalla cazzo di prigione eh si mi sa che la prigione a tra poco tra l'altro scusate sono ancora io eh riguardando mh tanto che no che editavo l'ultimo episodio ho anche se mi sbaglio dimenticato madonna ste bolle ho anche dimenticato se non ero un posto dove andare prima di andare contro eh bronze tiger dovevo andare su solo che non ci ho fatto caso quindi vabbè ci andrò dopo e mi sa che la c'è l'ultima gabbia per uccelli perché di pinguini perché non l'ho vista allora quindi eh ma perché non mi fa andare fammi andare qua proviamo l'uscita di qua esci dalla struttura e andiamo oh vai ok dovevamo solo uscire e andare al faro faro fano falo facò oh finalmente progrediamo ma se io faccio però ho già visto qualcosa la qua cado si ho scoperto questo punto ho scoperto questo punto vabbò non sai quanto non me ne frega andiamo qua sopra senza farci vedere posso andare su no? dimmi che posso dimmi che posso dimmi che posso spara non posso cosa sta in mano quello? no ma non volevo sto ah ok c'ha il gultello lì c'ha il coltello quindi se sei brutto sei bello non mi interessa ti spacco vabbè ma mettere al posto quelli di che scompaiono no eh ti spacco vabbè adesso io mi fermo qua finchè non scompaiono tutti e due insieme dai mi devo girare? ok mi giro uno e due che brutte cose mamma mia ok analisi in italiano la barriera di metallo è danneggiata e indebolita dalla ruggine dei tetti o giù ormai non ci sono più problemi vanno giù che è una bellezza però vai su docks ahead eh ma fammi quindi posso scavare un momento stavo creando nuove sensori nelle visite forse eh no non dimmi che lo torna indietro ne madonna eeeh dobbiamo andare dal gioco caro ah però non ci sono prima di tanto capito com'è 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 sta cazzo di mappa vabbè torniamo a dire ma dimmelo prima no eh no va bene ok ok no 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 va bene fatemi fare i ziri a vuoto proprio ok niente ci vediamo quando sono la amministrazione e qua è la zona del joker se non erro qua se non erro ci dovrebbero essere le dentiere non più le gabbie dei pinguini ma le dentiere come c'erano nei passati eh batman non in tutti però ci stavano analisi in uzbeco il pannello bloccato ah ok richiedo eeeh bombano bombano basta america e vabbè andiamo su di qua se mi dicono di andare su vado su su faccio stare questa porta metallica rinforzata è l'accesso principale dell'edificio di amministration andiamo a vantation ah ok è aperta cioè non è che devo tirarla giù view land man there oddio bam subito il gioco we are si 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 ah we are sleeping ok stiamo dormendo voglio dire di andare avanti così più o meno non devo stare lì a fare o devo eh no devo farlo lo stesso indizio caso detective scoperto il joker impazzito ma quando mai è stato normale guardia morta non ho schiazzato se questo qua uno di qua ah ok la cartella guardia morta con un sorriso con tratto simile a quello delle altre nella zona il sorriso indica l'esposizione al gas del joker perchè era il gas che ti faceva muaaaa continuare a ridere ma di quelle risate che belle potenti ne ecco questo qua è il la qualificazione per il primo torneo di sequenzia sequenzializzazione e passo al primo turno se li sequenzializzerò tutti andrò direttamente nelle finali e poi vincerò il primo eh però non mi esce vaffanculo vado avanti così oddio mio buongiorno joker cosa ha da ridere? ah bene ok chi sono sti strunzi? il dispositivo può essere attivato da non prevista scarica elettrica oh mamma santa no no si? eh no mi sa che mi serve l'altro l'altro potere eccole come faccio? faccio a romperlo? come faccio a romperlo? non me le segnala? eh ma come faccio? e vabbè vi volo addosso allora andiamo avanti di qua cosa cacchio è? andiamo avanti apriamo la porta bolle ancora qua il computer porca oi joker cacchio con le scritte così sembra un episodio di simpson dove Homer diventa paccio tipo shining buongiorno adesso salta fuori il coso con i simpson ahah 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 porcaccione ok lasciami andare per mi chiamano oh non buona ci sono ahah 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 fine adesso ci hanno buttato sulla mappa di batman arkham arkham asylum e niente, partirà il let's play di Arkham Asylum, perfetto, ora siamo su Arkham Asylum come potete vedere è tutto un altro gioco, mamma mia, sempre queste cose qua, che vado avanti, dopo, torno indietro, chiamala Catwoman eh, bene, punto, ma prendimi anche te, gli aggiornamenti, no eh, no, ecco, genna rì, chianne chianne non t'ha fuga, eh, Catwoman, piano ora c'è anche il tempo? Speriamo di no, oh mamma, allora, io sono lì, devo andare, la madonna allora, sono qua, così, torno indietro, però là c'è un punto di domanda poi, come cacchio faccio andare di lì, no, devo passare di lì, esattamente andiamo un attimo, facciamo un giro di qua, muy veloce, oh, ah, intanto non si possono rompere è aperta? andiamo ok, ma volendo ma volendo è anche giusto, no? però là eh, ma c'è un punto di domanda anche lì qua sono i punti di domanda raccogli eh dove? ci sono sopra? ma c'è no c'è sta a bugo ma non lo vedo vabbè andiamo avanti comunque è giusto di qua spero perché di là si fa un'altra zona sicuramente adesso vado avanti bene sti cazzo da ascensori madonna santa oh ma appazzornata ok come faccio ad andare là andare sul cantiere come cazzo faccio vabbè eeeh vabbè allora tieni premuto per usare l'analizzatore non avevo fatto cazzo i dettiti che bloccano la prudenza sembrano fragili quella tiriamo giù e dopo ragazzi vi do il salutone ci vedremo al prossimo episodio eh però no devo andare avanti con un pelo che mi esce che mi esce il coso il salvataggio salvataggio adellà perfetto ci vedremo al prossimo episodio in momento ho capito come si usa la mappa e andremo avanti ciao a tutti ciao a tutti